Un tempo era affidato ad una cooperativa di privati, da oggi invece il comune di Bari l'ha dato in gestione all'azienda di trasporto pubblico urbano, l'AMTAB. Stiamo parlando dell'ex International Parking, ovvero l'area di parcheggio antistante, uno degli ingressi del porto, dismessa a giugno scorso per fare posto ai gazebo e al palco del Summer Village. Si riattiva così un'ampia zona di parcheggio, oltre 170 quelli a disposizione, che potrà essere utilizzata sia dai residenti di Bari Vecchia sia dagli automobilisti, in particolare i turisti. Per i primi sarà possibile parcheggiare gratuitamente esibendo il tagliandino ZSRD o ZTL. Per tutti gli altri invece è previsto lo stesso sistema di pagamento delle strisce blu. Stiamo cercando di offrire alla collettività di Bari, in particolare ai residenti di Bari Vecchia, un'opportunità in più per il parcheggio di tutti coloro che sono provvisti del tagliandolo di zona sosta regolamentata, zona traffico limitato, ed in più al prezzo di un euro all'ora possiamo offrire un parcheggio a tutti coloro che, specialmente in estate, vorranno venire a vedere la nostra città e, come dire, anche partecipare agli eventi che si organizzeranno. E quindi diventerà anche, sotto questo punto di vista, una valvola di sfogo per il parcheggio. Soddisfatto il candidato sindaco di Bari, Antonio De Caro, secondo il quale si realizza così un progetto, più volte richiesto dai titolari di bar e locali del Borgo Antico, esasperati dalla mancanza di posti auto per i frequentatori della movida notturna. Infine, con l'ampiamento di quest'area di parcheggio, sarà anche possibile attivare le ultime due telecamere per il controllo degli accessi alla città vecchia, al barco di San Nicola e del Castello Svevo.